E ciao a tutti ragazzi, sono Davide Galliano e oggi sono su Farming Simulator 17 Allora, oggi continuo la raccolta Continuo la raccolta dei campi Allora, le mod che ho sono queste Praticamente nello scorso gameplay che adesso avrà poi pubblicato Ho iniziato la raccolta dei campi E adesso continuo Appena carica il gioco Allora Ci metto un attimino Mi chiedo scusa ma il gioco è diventato lento Porfa, cosa oggi che non va Scusate ma Allora ok, se volete vedere proprio il gameplay Mettetelo a 2 minuti 40 Vi chiedo scusa ma ci mette un pochettino Adesso ritorniamo a noi Li mettiamo in funzione le trebbie Ecco qua Poi Poi no Però forse Non andava bene qua Vediamo La devo svuotare La devo svuotare Erore Vediamo La devo svuotare Erore Ecco qua Ecco qua Erore 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 Travolo Erore 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 Ma Ma Potrei fare questo qua Ok l'ho trovato No Togliato Ecco fatto Per andare a prenderlo anche lì Lo spazio delle pecore Già la faccio la faccio in questo gameplay Ma direi così Oh no Poi un giorno potremmo quello delle carabin Adesso aspetto ancora un attimo Visto che era poco che l'ho fatto Erore Altrimenti di qua c'è già 4.000 ore Di lavoro Volevo rimuovere questo Cipato Allora Vado Non ammetti trebbia L'ho Erore Erore Laszzi Ehm... Ehm... Allora... Ehm... 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 Ok... Questo è tutto oggi... Ecco fatto... Allora adesso inizio qua... Ehm... Ehm... Provo il colpo che mi comincia se mi sbaglio... Non so se... Fare l'andana... Dove facciano andare? Penso mettere l'operaio... Per togliere... Da più... C'è la pala gommata... Lo metto qua di fianco adesso... Per la poterla su... E' la prima... Allora andiamo nella team montane mu... Donne bacar... Ehm... 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 Ecco qua... ecco pronto le pecore che non sono mai sere vedo che sono qua mi dà da mangiare ecco qua ecco qua ecco qua qui è un campiede quando ho raccogliato venerdì vedo l'acchione allora adesso dopo è nella il cisterno dell'acqua poi finisco vedo le trebbi qui vediamo sono messo l'acqua dove l'ho lasciata no eccola qua vedete verrà un po' lungo e anche vuota fa il caiclo subito fa svuoto e finisco al ventre alla fine ho fatto due cose che non sta sempre sulle trebbi quando qui diventa migliore qui c'è un new world 86 ma adesso è una piccola bello buono vabbè no non è una mod questa forse se ci mi ricordo allora vabbè vado a togliere l'acqua poi vado a togliere l'acqua vado a togliere l'acqua vado a togliere l'acqua ho ancora bisogno di profino erba ma glielo porti anche i suini questa volta mi dedico alle mucche magari vedo adesso posso fare di nuovo da da mangiare le mucche poi nel prossimo i suini ma l'acqua è finita vabbè la ricarico nel prossimo gameplay ecco andiamo a timorare pebbia l'acqua l'altro forse è finito l'acqua l'acqua che ecco l'acqua Grazie a tutti. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.